Se nella prima parte del 2021 è preseguito il recupero dell'attività industriale nella provincia di Biella, nel trimestre ottobre e dicembre questa dinamica si è parzialmente indebolita. Il rallentamento è riconducibile principalmente alla scarsità di alcune materie prime e dei semi lavorati, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento per molti settori. La produzione industriale comunque si mantiene positiva, buona la performance di Biella che con un dato del più 15,3% sul fronte della produzione mette a segno il miglior risultato a livello regionale, concretizzando un significato risultato anche in termini di fatturato. È il tessile abbigliamento con parto di primaria importanza, non solo per il biellese, a mostrare in effetti i segnali più incoraggianti, che però devono essere letti nel confronto con un quarto trimestre del 2020, di forte sofferenza per l'intera sistema moda. Tali risultati sono offuscati purtroppo dalla preoccupazione per il futuro, sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Ravanelli. I fattori che minacciano la ripresa del 2022 sono i prezzi di materie prime, quindi gas, luce e le stelle, a cui occorre aggiungere le conseguenze della guerra in Ucraina, con la creazione di un effetto domino, senza dimenticare l'importanza di investimenti in transazione energetica, che richiedono tuttavia tempistiche di medio e lungo periodo. In questo momento la priorità è individuare nuove forniture, in modo da sostenere i livelli di produttività delle nostre imprese.